Vi sarà capitato di avere un amico, non vederlo dai tempi del liceo e ritrovarlo proprio lì, su Facebook. Un podcast morbidissimo. Buongiorno e benvenuti alla prima puntata della terza stagione di Cashmere, un podcast morbidissimo. Siamo tornati, siamo tornati, siamo tornati. Che cos'è? Tahir? Guarda un po' i vostri maglioncini. Io non posso credere a quello che è successo e tra l'altro questa è una cosa davvero non preventivata. Per fortuna che abbiamo tolto quello che abbiamo detto sullo sparo di Tahir. Già, esatto, avremmo perso tutto il pubblico, diciamo non Emea, un po' a est di Emea. Come avrai visto siamo ripartiti con una sigla straordinaria. Sì, insidia. Il cui merito, uno può metterci, possiamo metterci le idee, ma poi è il tecnico, è l'artigiano, è il maestro. L'artigiano, l'artigiano che l'ha girata, l'artigiano che l'ha composta. Il gioiellino di sigla che avete visto, girata da Tahir Hussein, musicata da Carmelo Avanzato. Come state ragazzi? Come state? Ma non te posso dire, mezzo bene. Quest'anno positività, che bello. Siamo tornati, basta, sta là tutti imbruttiti. Positività quest'anno. Chi si è imbruttito in questi mesi? Guarda come stai, hai capito che Kanye si è bruciato. Sì, esatto. Quindi ora finge, sto prendendo lo stesso cluster di Kanye. Sto nella negazione, sto. Ah, nel negazionismo dell'Olocausto stai? No, no, quello sempre negato. Sto nella negazione. Benissimo. Molto bene. Senti, ta, vabbè, ma noi poi ci siamo visti poco quest'estate. Senti, intanto hai fatto una grande dieta però, ti trovo benissimo. Ho fatto una grande dieta, grandi allenamenti. Hai bevuto molto poco? Non ho bevuto quest'estate. Bravo, bravo. Questo per dire che si può, signori, smettere, si può. Questa è la helpline di Tahir Hussein. Fidatevi anche se non lo vedete. Ti cambia, infatti Tahir vorrei chiederti, puoi dire a tutti chi hai votato? Io purtroppo ho votato Calenda. Guarda, noi siamo veramente… Stavo per scrivere Kanye sulla scala elettorale. E poi hai detto chi è il Kanye italiano? Esatto. Siamo orgogliosi di te, perché noi ti abbiamo portato dalla trap alla tessera di azione. Abbiamo fatto veramente un grandissimo lavoro. Un grandissimo sulla mia tessera elettorale. Come nel meme, quello famoso, voi siete orgogliosi del suo voto per Calenda. No, ma solo per averlo trasformato in un trentenne, ma non per capire che Tahir è la terzo polo gang. È vero. Bellissimo. La terzo polo gang… Tra l'altro i chili che hai perso tu li hai presi Calenda. Esatto, per osmosi. Per osmosi. Vi siete toccati, tipo Goku e Vegeta, lui ti ha passato la serietà, diciamo, e tu gli hai passato i chili. Per me poteva pure andare peggio, comunque, del vostro dire. Del governo Meloni. Sì, tipo? Dici? Il governo Montesano. Qualsiasi cosa di sinistra. Ah, tu dici. Si apre la polemica, si apre la polemica. Ma come? Scegli. E tu scegli quella bellissima campagna elettorale che abbiamo visto su tutti gli autobus d'Italia. Scegli. Ho visto più meme fatti dai politici di sinistra che dalle pagine di meme che seguo. Sai che è brutto fare una campagna elettorale impostandola su quello e vieni battuto da un meme, tra l'altro fatto da un ragazzo che conosciamo, Matteo Cassanelli, che aveva fatto scegli la matriciana, panciale o guancetta, e vieni battuto per quello. Eh lo so ragazzi, però quando la comunicazione è fatta così bene forse si merita di andare in quel modo. Sai chi è l'Enrico Letta dei podcast italiani? Carmelo Avanzato. Carmelo Avanzato, bentornato. Ciao, ciao. Come stai? Devo veramente iniziare la stagione parlando di patologie rare e sindrome... No. Puoi anche non farlo. Allora dico che... Questa è la tua critica alla... Chi sei? Michele Serra, patologie rare come Enrico Letta, la guida del PD o... La manca di Carmelo Avanzato. E voi l'avete chiesto come sto? Mi avvalgo di... Che patologia rara hai? Beh, c'è una mutazione puntiforme a... Ah, se vuoi dire? Certo, prego. Dillo. Vabbè. Sul cromosoma... A 12. No, scherzo raga, ma che sto a una favola. Stai bene. A parte l'ho bucato col monopattino e mi stavano investendo sabato. Oggi ho rischiato di non venire, però ce l'ho fatta. Bravo, bravo. Siamo felici che tu sia qui. Complimenti per la sigla, Melo, veramente. Grazie, grazie. Ci è piaciuta molto. Sei il leader degli Sister Sisters Italiano. Italiano. Posso dire le reference? Me le date voi, eh. Io... No, no, però hai fatto un grande lavoro di composizione. Quei coretti dietro hanno fatto un po' sognare tutta l'Italia. Esatto. Questo poi siamo già in questi cinque minuti appena passati. Hanno già parlato, ma le salutiamo ovviamente le ragazze, le donne. Questo 2022-2023 è donna. Sono diventate donne? È donna. Vedremo. Vi abbiamo lasciato ragazze. Vi ritroviamo donne. Vorremmo essere chiamate i cashmirini, proprio in onore della nostra... Certo. E perché... I signori cashmirini. I signori. Va bene, i signori cashmirini, giustamente, in linea con le disposizioni del governo. Mi sembra giustissimo. Come state voi? Come siete tornate da questa lunga pausa? Bene. Bene. Molto cariche, insomma, contente di rivedervi. Vi abbiamo visto sempre. Cioè, il tuo marito... Vero, sei contenta di avermi rivisto. M'hai rivisto, meno male che m'hai rivisto. Sono contenta di rivedere Tairmi, mancava questa visuale proprio così, insomma. È certo. Questa sua vicinanza. Anche perché ricordiamo sempre che tu sei solo il marito di mi sorella. Certo, ovviamente, infatti. Fugognato. 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 Siete contenti? Fugognato. Avete la prima premier donna. Ah, guarda, una favola. Non è una bella cosa questa. Veramente. Ma vi identificate in questa... Mega. C'è tutta la mega critica rispetto... Nella sua isteria, dici? C'è tutta la cosa che... Il fatto che urla e si arrabbia, sì. Io ho fatto una domanda, tu hai dato quattro risposte, quindi... Non c'entro, mi spiace. Però no, c'è molto questa cosa, perché il primo ministro... Cioè, ministro... Quei cazzo sì, presidente del consiglio, donna. Però i grandi movimenti femministi non hanno detto... Yeah, come on! Ah, così. E vabbè, ragazzi, giustamente. Funziona il merito, poiché sia uomo o donna, è una cosa importante che funzioni. Però dall'altra parte funziona in modo diverso. È certo, è complesso, è complesso. No, poi veramente è molto ironico che la prima premier donna pretenda di essere chiamata il presidente. Però posso dirti che è una questione importante, cioè, nel senso, quello è stato giusto entrare e chiarire subito su questo problema importante. Quello, quello sì, certo. Quello, c'è stata la questione dei dispenser, come si chiama, dell'igienizzante in Parlamento. Non so chi ha detto... Perché si chiamano dispenser e non hanno un nome italiano. Bello, bello. Il dispensatore... Problemi dell'Italia. Beh, sono tutte quante cose importanti, priorità per il paese in questo momento, un po' come il decreto rave. Noi a Kashmir siamo... Insomma, i rave sono... Noi li abbiamo molto a cuore, ne abbiamo parlato tante volte. Ci fu il famoso rave di Viterbo che ci fece gran ridere nella pazza estate del 2021. Ma io sono stato a Berlino ultimamente e ne ho parlato col pubblico anche dopo e anche loro hanno paura che arrivi anche lì il decreto rave. Non sanno... Ai 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 ai. Quanti rave ci saranno in Italia ogni anno? Due. Non lo so. Due virgola uno. Ma poi cosa si intende per rave? Cioè, tutta quella roba è stata abbastanza divertente. E sono problemi grossi, sono problemi seri. Non il fatto che noi per stare riscaldati abbiamo un falò, voi non lo potete vedere. Stiamo bruciando nella legna e così andrà da qui a marzo. Da qui a marzo, esattamente, sì sì. In tutta Italia e... Però il governo dà qualcosa doveva pure iniziare. Certo. Per esempio, noi potremmo finalmente pagare Carmelo 5.000 euro cash, che era il sogno un po' di cashmere sin dall'inizio. Ma a te capita mai di andare in giro con 20.000 euro cash? Onestamente no, non capita molto spesso. Ma dove si mettono 20.000 euro cash? Cioè, nel senso... Borsello. Nel borsello. Entrano. Sì. Sì. È ai 10.000, non ai 20.000. Sì, sì, no, però c'è la proposta... 5.000 adesso credo che abbiano... No, no, 10. Ma il tetto era 3, prima. No, no, il tetto prima era... No, 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 era 3. Non potevi andare con più di 3.000 euro in contanti. Era 1.000, era 1.000. Era 1.000. Prima era 1.000. Siamo tutti informatissimi. Carmelo, ci controlli quant'è... Sennò io ogni volta sforo, cioè... Io sapevo che prima di questo nuovo provvedimento, il tetto al contante era... Cioè, tu potevi pagare al massimo 1.000 euro in contante. Due anni fa era 3. Tu puoi avere con te 10.000 euro, ne sono sicuro al 100%. Secondo me Tahir e Carmelo lo sanno meglio di tutti in questa... Eh, infatti. Ti ho detto, 1.000, prima ancora era 3.000, ora l'hanno messo 5. Secondo me, Carmelo, se si trova davanti 10.000 euro... O meglio, da quello che so... Pensavo fosse 1.000, però non sto chiedendo. 1.000 in Francia. Allo che so, tu potevi avere fino a 3.000, però se dovevi fare una transazione, potevi farla al massimo di 1.000 cash. Speri che è un problema serio, che tutti ci stiamo ponendo. Ma lo so, eh, ma... E' capitato. Lo storico non è difficile farlo, perché ci sono solo articoli che parlano di attualità, nonno. Sì. Comunque sono grandi priorità italiane e... So che c'è un artigiano, ha mandato una lettera al Corriere della Sera, l'hai letta, no? Di Varese. Dicendo? Sono uno dei tanti italiani che fattura molto meno di quel che ghedagna, sono contento che ho clienti, mi potranno pagare in 5.000 euro cash. Bene, fa bene, perché lui farà un'attenta ricevuta con la penna e poi col timbro e saremo tutti quanti a posto. Io però segnalo, perché ci sono stato anche qui ultimamente all'aeroporto di Linate, una breve pubblicità in cui, quando si deve andare a qualcosa a dichiarare e qualcosa a non dichiarare, c'è un uomo con un bimbo che camminano verso il... Hai qualcosa da non dichiarare? E poi il bimbo con un rossacchiotto in mano tira la mano al papà e dice, no, dobbiamo dichiarare quello che c'è nella tua valigia. Vanno lì, aprono la valigia e ci sono i 10.000 euro e il bambino gli fa, vedi, il finanziere fa bene che li ha dichiarati i 10.000 euro, ma è muta la cosa, quindi sembra un bambino... Quanto è lungo da questa pubblicità? Dura benzioni, è muta e sembra che il bambino stia dicendo, un bambino rapito da un pedofilo, dica, vagli a dire quanti soldi fai. È uno spot Milano su queste cose molto attenta, molto divertente. Chi va all'inate se la guardi perché è meglio di rubicchio. A proposito di aeroporto e dove porti i contanti, dove si mettono, non so se avete fatto caso, nei negozietti all'interno degli aeroporti c'è un marsupio che si mette all'interno della mutanda, apposta per portare delle cose e non essere sentito. No, quello è anche per andare... Molti turisti lo fanno anche a Roma. Quello si usa. Non è dentro la mutanda, è, diciamo, sotto la maglietta. In quella parte, nella valle del sudore, si chiama. Io la metto dove voglio. È la valle del sudore, in quel momento è sotto il rotolo della pancia e appena sopra il monte di Hermes, non il monte di Venere, ma... Carmelo prende due fette di prosciutto, ci mette del sapone dentro, la mette sotto la pancia, la chiude. Sta sempre un po' frizzantino, un po' così. Esattamente. E poi ci fa un distillato suo. Esatto. Che poi ci tinteggia i muri, infatti, da qui. Quello si chiama Monte di Marte. Il Monte di Marte. Il Monte di Marte. Il Monte di Marte. Al quale non vorremmo mai arrampicarci, caro Carmelo. Comunque abbiamo parlato appunto di provvedimenti, provvedimenti nuovi di questo nuovo governo. Questo nuovo governo ci ha dato un effetto déjà vu, dicevamo, no? Ci sembra che questo nuovo governo sia un po' un remake del governo Berlusconi, che tutti noi, insomma, noi... Con una sprezzata, però... Ragazzi degli anni 80 si è cresciuti con il governo Berlusconi, il glorioso governo Berlusconi dei primi 2000. Con una mano di nero. Una mano di nero. Esatto. Che sfina, che rende tutto più... Che sfina, esatto. Cioè la russa presidente del Senato. Fontana, presidente della Camera, un personaggino particolare, uno che si sposa con un rito medievale. Che cazzo ha dato un bacio dentro il mio... Io, io, io. Ah, ok, scusate. Ti ho visto, è una cosa che non ti ho dato per niente fastidio, però, è vero. Ho sentito. Pensavo fosse stato Carmelo che limonava qualcuno. No, non ancora. Che apriva il monte di Ares. Il monte di... No, ci l'è un po' di... Eh sì, questo governo è un po' un remake, un grande ritorno al passato. Si può dire che oggi, come oggi, il remake, il ritorno al passato, il riproporre, sfruttando da nostalgia a qualsiasi cosa, di solito a partire dalle storie, ora a partire anche dai governi, sia una grande moda e questo, se vogliamo, è il tema della prima puntata della terza stagione. Di Kashmir Podcast. Esatto, perché comunque viviamo in un'epoca di grande nostalgia, non c'è alcuna fiducia nel futuro, quindi continuiamo a guardare sempre al passato. Per riproporci sempre, continuiamo a partire appunto dai film, diciamo, il cinema, che una volta era quella cosa che anticipava quello che stava per arrivare, non fa che riproporre. Guarda, sono indietro. E Maverick, Top Gun, e la sirenetta, e i vari... Allora, allora, ascolta me, ascolta me. Allora, io non volevo provocarti su questa cosa della sirenetta. All'Italia, 1997, abbiamo volato, io e mia moglie e i bambini, avrò speso una zucca, ok? Va bene. Arriviamo là, vedo la sirenetta dell'Anse Christian Cose. Va bene. Di che colore è? Rame, è verde. Chiaro, la vera sirenetta è verde. Lascia perdere che è verde. Va bene, si è fatta un bagnino a Chernobyl ed è diventata verde. A parte che c'ha due meloni che... Ma te lo fate vedere la Sabrina che ci abbiamo in ufficio giù. Ma l'ho fatta vedere, sì. Quella sì che è una bella favola. E allora, fai pazienza, scusa. Spiace solo che non ci abbia, diciamo, quel plus. È vero? Così però non è una favola che quelle piacciono ai bambini, è una fiaba che piacciono ai più grandi. Quelle piacciono un po' a noi. Guarda, che dire, si torna veramente... La gente impazzisce per questo qua. Adesso c'è, a proposito di colori della pelle e delle sirenette, c'è il remake anche della solita questione dove vanno gli immigrati con le navi. Torna sempre questa storia, cioè con tutti i problemi che ci sono viene sempre riproposta. Il grave problema dell'immigrazione in Italia, una grande minaccia. In Italia, in Europa. In Europa. Macron che dice, no, 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 dovete tenerli voi, siete degli animali, non le permettete di venire. Voi a mettere due telecamere a ventimiglia, vedi quello che succede. Come vengono trattati bene e poi fanno la morale a noi. Ma non si fa, noi che ora siamo turbo sovranisti. Eh certo, come no, sì sì. Ma infatti no, diciamo, ci eravamo lasciati a maggio con Draghi lanciato nell'Europa, ci ritroviamo invece adesso, nella nuova stagione, con una Meloni lanciata ugualmente verso l'Europa. Perché tanto, che cazzo devi fare adesso? Niente, o quello o proviamo a ritrovarci fra amici e ripuntiamo con le colonie. Chiudiamo, chiudiamo tutto, chiudiamo i confini, chiudiamo i confini, non parliamo più con l'Europa, non parliamo più con nessuno, facciamo tutto da soli. Però ritroviamoci con i ragazzi in cui siamo stati insieme. Certo, infatti pensavamo anche ad un remake, remake della Seconda Guerra Mondiale, quindi remake della Terza Guerra Mondiale, che insomma, a quanto pare, poi, insomma, siamo a tema di attualità. A proposito di remake. Sì. Ogni tanto, qualche volta, vengono anche bene, spesso i remake. Fortunatamente. Ogni tanto vengono anche benissimo. È vero, è vero. Noi, per esempio, adesso, sono due anni che noi beviamo crodini qui a Cashmere Podcast, non l'abbiamo mai detto a nessuno, non l'abbiamo mai specificato, non abbiamo mai cercato lo sponsor. Quest'anno, finalmente, Crodino si è accorta di noi e, grazie a Dio, ci ha offerto da bere per tutto l'anno. Esatto. E ci ha offerto anche un po' di più, perché è di più grande. È vero, sì, perché è la nuova versione, che è più grande, esatto, che si gusta e che dura tutto un Cashmere Podcast. Lo so, io bevo piano, io bevo piano, bevo piano, per questo. No, tu sei un fan dei remake. Io, allora, quando sono belli mi piacciono. Questa è una frase originale, piena di senso. Sì. E hai fatto bene a dirla. Vero? Sì. Anche la tua domanda. Quando sono belli mi piacciono. Era appena appena da radio. Vabbè, ci sta, dai. Edoardo, tu sei fan dei remake. Mandate un messaggio a 484084 per sapere qual è il vostro remake preferito. Grazie per averci chiamato la Balduina. Tahir, sei un fan dei remake? Bah, quelli di cui non conosco l'originale, sì. Ah, ok. Cioè, non sei una persona che tipo si incazza quando sente dire che verrà rifatto il film X. Ma raga, c'è sto film con queste quattro donne a chiappa fantasmi? È bellissimo, raga, è un capolavoro. Finalmente anche loro possono identificarsi in quattro inventori anni Ottanta. Cioè, cacca, ma questi che si lamentano su internet dei film sono delle persone inutili. Valla fan film. Direi che il core business... Ah, questo è vero. Sono perfettamente d'accordo con te, ma il core business degli anni 2020 è lamentarsi su internet tipo per i remake, visto che adesso poi è un'epoca in cui abbiamo un grande timore del futuro, si guarda solo al passato. Solo quello dei Pokémon mi ha fatto cacca. Ecco, il remake dei Pokémon me lo sono perso. Anch'io. Me lo sono perso. Anch'io, cavolo. Un po' come quando Martellone chiede a Caterina Gozzanti. Ti ha visto il mio spettacolo buscio de culo? Me lo sono perso. A proposito, il remake, non è un remake, la quarta stagione... Eh, ma poi ne parliamo bene del Body Squad, poi ne parliamo bene, parliamo bene. Remake dei Pokémon non l'ho visto. Voi avete visto invece Maverick? Certo. Top Gun, non l'ho visto. Stupendo, bellissimo, capolavoro. Dice molto sul cambio dei tempi, però è un film reganiano totalmente, Top Gun dell'86. Certo, e oggi infatti come è stato definito? Senza nemico, non si sa chi sia nemico. No, no, c'è, ma non viene detto da dove viene, non è chiaro. Dalla giacca di Maverick, famosa sta cosa, hanno tolto Taiwan per evitare di... La bandiera di Taiwan per evitare che in Cina qualcuno dicesse... Ah, però scusa, non ce lo vuoi far vedere a tutti. Beh, direi che non è servito molto togliere questo adesivo, considerando quello che sta per accadere a Taiwan. Ma sai quanto gliene frega alla casa di produzione che ha valuto un miliardo di dollari? Eh, sono molto contenti e... Ma Top Gun è un remake? Non è un sequel? Bravissimo, questa è la domanda. Cioè, è un sequel, però è rifatto esattamente sulla stessa identica storia. Identica storia? No, c'è il figlio, cioè, non so, probabilmente mi sbaglio e i nostri ascoltatori sapranno dirlo meglio. La storia ricalca esattamente l'andamento della prima, solo, non facciamo spoiler, è il sequel, ma è di fatto una sorta di remake. Io gioco questa carta. Vabbè, del resto funzionano troppo bene. Un po' come il governo Beloni, che è un sequel, ma è anche un remake. Ma è anche un remake, è vero, è vero. Una notte da leoni? Quello è il sequel. Ed è anche quello è un remake. Quello è il sequel. Ed è un remake. E sono gli... Cioè, tu vedi l'andamento, come è fatto... Ma è una notte da leoni o non è il remake? Eh, ma sono gli... Eh, certo che è il sequel, però l'andamento di come è fatto è molto, molto... Chi ne so... Mamma ha perso l'aereo? Mamma ha perso l'aereo 2? È ovviamente il sequel, ma tu stai rifacendo esattamente lo stesso identico film, con lo stesso schema, gli stessi personaggi... Ma non si chiama Reboot, è quello? No, no, no. Una notte da meloni, tipo, come sempre. Bello, bello, una notte da meloni. Bella notte da meloni. Stupendo. Beh, è bello. Una notte da meloni, sì, è bello. Una notte da meloni, forse, Crozza... No, ma non è la freschezza. No, no, potrebbe farlo. Cioè, mi immagino il sketch su Corriere.it di Crozza. Una notte da meloni. Una notte da meloni sono Giorgia Meloni. Crosetto e la russa, che si ubriacano tantissimo. E perdono Salvini. Perdono Salvini. Dovevano portarlo al matrimonio con la figlia di Verdini. Dovevano semplicemente allearsi. Allearsi, però... Certo, sì, dopo lui si perde. Addio al celibato, addio al celibato, che non si fa a, ovviamente a Las Vegas, ma si fa a Campione, no. Cadranago sul Trezzano. A Milano Marittima, a Milano Marittima. Arcore, che è la Las Vegas italiana? Beh, chi più di loro. No, ma a me piace un po' più triste. Guarda, ti portiamo fuori a mangiare questo menù, 25 euro, c'è... Allora, la capa santa e... C'è il gambero rosso. Poi ci ha offerto gli amari, ha già detto senza problemi. Ovviamente nessuno prende nessuna droga, ma gli va di traverso una cozza a tutti. A tutti quanti, sì. Si riparte. Ovviamente siamo, sì, pizzeria il capitano a Trezzano sull'Adda. Certo. Oh, la mia scelta per te è il capitano, eh? Salvini, grazie ragazzi, oh! Così, il sequel lo fai direttamente a Gubbio. Bellissimo. Sì, sì, giusto. Questo sarebbe molto carino. Berlusconi è il cinese. Sì, 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 quello che non pare nudo. Sì, sì, quello che appare nudo, sì. Esce nudo. È il game changer. È il cio di merda, mi hai lasciato nudo. Come piace a me. Ma vengo ancora il 10. D'accordo. Molto bello, una latte da meloni e questo divertente film. Questo poi lo vendiamo, lo vendiamo anche noi. A chi? A chi lo vorresti vendere? Secondo te chi è il broadcast che ci lascerebbe liberi di farlo? Paramount Plus, che ci ha permesso di fare BVS Embatted. Il remake, anche quello. È un remake, un reboot, un sequel? È un prequel, paradossalmente. È un prequel, però... Con una mattata dentro. Con una mattata dentro, sì. Paramount Plus, dici? Io ricordo... No, secondo me, chi ci permetterebbe davvero di fare una notte da meloni è... Serai Play, perché comunque è una piattaforma libera, alla fine. Sì. Rispetto alle altre. Sì. Allora, ragazzi... Allora, abbiamo letto... Allora, abbiamo letto... Questo è molto bello di questi ragazzi. Edoardo Ravenna, Luca Ferrario, Cecilia D'Agustei, no? A noi ci piace molto. C'è un problema adesso che... Sostanzialmente, sapete come funzionano le cose qua dentro. Si è insediato questo nuovo governo. Quindi magari anziché chiamare... Non lo potete dire, raga, dirlo in modo chiaro. Meloni, dobbiamo cambiare. Una notte da D'Alema, vi piace? Non lo fate. Però c'è sempre la Meloni, uguale. Però nel titolo non lo puoi chiamare una notte da Meloni. Non lo chiamare una notte da D'Alema. E poi, se posso suggerire, non lo fai con una donna, lo fai proprio con D'Alema. Che poi, ormai, con queste webserie... Ma non potete fare su YouTube, sta cosa, scusa. Anziché buttare un sacco di soldi per farlo qua da noi. Ma guarda che viene naturale. D'Alema, Veltroni e Bersani... Ma infatti... In tre amici se perdono a Renzi. Se perdono a Renzi. Se divertiamo tutti, non stiamo nervosi. Che stiamo tutti quanti più tranquilli. Che dovevano andare, che ne so, al giubileo, quello che arriva mo' e poi sono felici. Oh, scusate, col nuovo governo sto essendo spostato fisicamente alla sede di Rai di Lugano. Quindi sto lasciando la mia poltrona e questa poltrona rimane vacante. Lugano addoppiava la mamma di Tahir. In realtà mi sava Rosa Russo Iervolino, ma che... Ma è una dirigente Rai che abbiamo conosciuto. Non diciamo, non diciamo, non diciamo. Non diciamo di quale canale. Esatto. Senti, invece no. Prima hai parlato del grande remake che poi non è un remake, questo è davvero un sequel. Boris Quattro, che è tornata, era difficilissimo farla e a me è piaciuta molto. Era difficilissimo farla bene e invece io l'ho trovata divertentissima. Manca l'ultimo episodio, a me. No, 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 non spoilerati, devo vederla tutta. Ero via. Molto bella. E non mi aspettavo una cosa così su Disney+, ti posso dire? Secondo me Disney+, concede molta libertà, posso dire? Solo in Italia. Più di alto, non dico. Penso veramente solo in Italia. Sì, in effetti è vero. O forse non c'è la sede italiana, gliel'hanno mandata in italiano. A dici ne hanno capito. Cioè, è tipico della Disney fare questi errori. Esatto, non controllare, ma si fa, fate, fate, fate. No, per me è divertentissima, dai. Poi anche i temi che affrontano era inusuale, che se qualcuno desse la possibilità di fare una serie su dei temi del genere. Dai, Biascica che fa il corso di formazione è una cosa stupenda. Ricordiamo che magari oltre a me ci sono altri amici spettatori che non hanno ancora visto. Ma bella, perché fa ridere? Ma certo che era difficile, era rischiosissimo. E la cosa interessante di Boris 4 è il fatto che, come sta succedendo molto spesso, sono i fan a chiedere. Cioè, le produzioni si orientano. Non è più fatto per provare a darti una cosa che non sapevi che ti sarebbe piaciuta, ma è, la vuoi così tanto? Te la faccio, perché commercialmente mi rendo conto che potrebbe avere effetto. È vero, poi in alcuni casi viene bene tipo Boris 4, in altri è un po' pericoloso. Tipo Dungeons & Dragons, la serie. Che hanno fatto una serie? Strange & Things. No, Game of Thrones. Ah, House of Dragons. Ma qualcuno l'ha vista? A parte io non ho mai visto Game of Thrones nella mia vita, neanche un minuto. Io ho visto Game of Thrones, ma non ho visto House of Dragons. Però ne ho zero proprio. Poi c'è anche quella degli amici dell'anello. Ah, gli anelli quella, io me la stocco là, non è malissimo. Non è male. Non è che forse sono un po' finite le idee, così, la butta in barro. Secondo me è puntata a una della terza stagione e parliamo di remake. Fai un po' te, fai un po' te di cosa. Allora, il problema è che nulla vende come il fanservice. Cioè, lo stesso motivo per cui vi fa una foto su Instagram a voi due caruccetti, è perché il fanservice va. Sì, il fanservice va, però come diceva il nostro collega Nicolò Falcone. Mi dicevi tu, no? Che diceva? Me l'hai detto tu ieri. E ricordami? Che diceva una frase, no, era lui che lo diceva. Cioè, che continuano a dare retta al pubblico, è come se fossero dei bambini. È come se tu chiedessi a un bambino. Ah, no, sì, ne parlavamo con Nicolò Falcone, sì. Mi pare proprio fosse Nicolò, che mi raccontava, diceva, noi ora andiamo in vacanza dove vuole nostro figlio. Tu saluto anche nel pippozzo. E andiamo in vacanza, mentre noi quando eravamo piccoli andavamo, non è che dicevamo noi dove andare in vacanza, ci trovavamo inspiegabilmente, che cazzo ne so, a fare un bel giro della foresta nera in Germania. Esatto, esatto. Ma io non ti ho mai chiesto di perderci qua. Papà ti portava a vedere le rovine greche, no? A sei anni. Esatto, a sei anni. E tu magari non ci volevi andare all'epoca lì, però imparavi qualcosa. Imparavi, non sapevi cosa, ma stavi imparando delle cose. Mentre se tu fai scegliere un bambino di sei anni, qualsiasi cosa è naturale, è ovvio che le sue… E ogni anno vai a Euro Disney. Esatto. Che rottura di cazzo a un certo punto. E però oggi i network trattano così il pubblico. E questo cosa crea? Degli spettatori più… Meno curiosi. Un po' meno curiosi. No, meno curiosi, secondo me, che vogliono andare sempre sul sicuro. Esatto. Poi c'è una riflessione che noi, a volte, ve la sclippettiamo anche. Eh? Ve la buttiamo lì. Su un tocco pure. Sì, bravo. Ci mettiamo il filtro da cane o quelle robe e poi… Che è il tuo modo di proporti su TikTok. Il filtro da cane è una cosa di Instagram del 2011. Snapchat. No, se no mettiamo quella… Quali sono, per cambiare un attimo… Quali sono quelle canzoni di Instagram o TikTok che o più vi danno i nervi o più vi fanno… Vi fa piacere sentire quando scorrete a casa… Sono tutte razziste quelle mie, che mi piacciono di più. Ok. Che canzoni ci sono su TikTok? Quelle razziste sue sono quelle di Kanye West. No, no. È una canzone da upset e poi viene detto questa la bippo e parte il pezzo. Ah, ok, ok. Però sicuro ti scordi di vi parla questa cosa. E Tahir cancellato, ti fanno l'overparty. Ma non mi possono cancellare io. Non sono un maschio bianco. Io ho un problema con quella canzone fatta tipo a coro per festeggiare o per celebrare l'amicizia di giovani tendenzialmente bianchi europei che vanno in vacanza. Na 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 I'm going to hurt you Na 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 find you Ma non posso TikTok? Cioè si chiama versione TikTok. Adesso devo trovarla assolutamente e cantarvela bene. A me fa cagare. Esatto, bellissimo. Ma tutte, tutte fanno schifo. Ma perché quella… Can we skip to the good part? Che bella ragazzi. Quella fatta per far vedere la vita su Instagram. Per far vedere che tu prima sei… Esatto, e poi invece fai vedere sulle dune. delle mezze arabeggianti per far vedere chi è l'uomo forte a me anche quella good morning che ho capito ma tutte le influencer alle Maldive che camminano e fanno vedere fuori il mare è bellissimo comunque io che amo viaggiare sta diventando noioso viaggiare perché vedi gli stessi posti sui feed Instagram di chiunque ed è una merda questa cosa Jack London disse la stessa cosa lo so però guarda che davvero è così Instagram sta facendo dei danni mostruosi non è possibile che ogni post dove vai ci sono un miliardo di foto che lo precedono è sempre uguale è stato tipo massimo mezz'ora di Instagram al giorno bravo poi ne buttavo sette su TikTok benissimo però mezz'ora su Instagram non ti chiediamo nulla sul tuo TikTok Armelo perché ricordiamo quello che ci dicesti tempo fa sul van come incroci l'algoritmo su TikTok ma volevi dire qualcosa infatti sono preparato sulla materia non ne parlerei delle canzoni perché una settimana su TikTok è come un anno su Facebook è vero è vero è vero è vero è vero però a proposito di remake su TikTok ci sono simpatici quelli che utilizzano direttamente il personaggio quindi c'è il remake di Mr. Bean pakistano italiano ci sta Elon Musk ah è vero sì sì l'Elon Musk cinese che abbiamo apprezzato e più anche la musica magari non abbiamo pensato ma parliamo anche di Baggin che ha tirato fuori su TikTok i Mineskin che sono dei remake di canzoni anni 60 come tutti questi rap di Frankie Valli and the Four Seasons yeah 1967 63 Carmelo Red Romney questo brano? mi pare di sì potrei sbagliare ci giochiamo un crodino ci giochiamo un crodino versione lunga da 17.5 cm col tappo twist o senza? col tappo twist bello bello vai vai cerca cerca come facevamo nella prima puntata ti ricordi Carmelo ce la controlli ce la puoi controllare Melo? per esempio la canzone di Kate Bush Running Up The Hill brava che è tornata prepotentemente sembra come se stessimo facendo ecologia stiamo riciclando le cose del passato perché forse ce ne sono un po' troppe e quindi ora siamo ma vogliamo dire anche che è diventato costosissimo avere nuove idee cioè oggi se deve uscire una nuova serie su una piattaforma costa un botto tantissimo anche solo per la promozione quindi si preferisce rifare il remake di Lord of the Rings rifare il remake di Rocky rifare il remake del padrino però sai che chiama i scemi eh lo so però così c'è un problema cioè tu non offri mai nulla di nuovo cioè veramente è il trionfo dell'algoritmo che senso colpa è nel senso sei tu che chiedi la quinta stagione Stranger Things cioè quindi è ovvio che loro vedono questa gallina dalle uova d'oro ma ti dirò passi Stranger Things secondo me è più preoccupante che si continuano a fare i remake della mummia di tutti quanti i film anni anni 80 90 perché ti dà proprio l'idea che non ci sia voglia di innovare secondo me finirà quando sarà troppo sadro cioè il Signore e gli Anelli funziona perché i film la prima trilogia è assurda è di Cristo Carmelo hanno fatto lo prego scusa hanno fatto un è molto importante quello che deve dire non mi avete chiesto infatti cosa penso dei remake secondo me invece l'idea mi riaggancio a questo mi riaggancio a questo secondo me l'idea è quello funzionale tranne nella mummia ma c'è una cover band lui ma che può pensare dei remake è la più importante l'idea tranne quando l'effetto può aggiungere qualcosa tipo King Kong la mummia si vede l'anno quindi può migliorare mentre dov'è l'idea importante non serve il remake bello bellissimo l'Hobbit scusa no è che con il signor Ren hanno fatto i primi film poi la trilogia l'Hobbit hanno abbassato con la serie hanno abbassato un altro po' se loro fanno un'altra roba abbassano ancora la qualità e la gente se lo vede e raga chiamali stupidi cioè finché la gente continuerà a guardarli questi ci fanno i soldi però la creatività ha sempre funzionato che diciamo un network a un certo punto scommetteva su qualcosa arrivava un matto e faceva una serie veramente mai vista oppure un film che veramente cambiava le regole e qui ti provoco e qui ti provoco perché il 2030 viene da te però di questo allora Edoardo a te per me mi piaceva tantissimo queste cose ti voglio proporre direttore di Rai 6 ti voglio proporre se ti interessa abbiamo avuto questa idea access prime time di fare esami 2030 te la te la guardi direttore come sono oggi i personaggi di esami 2030 beh i personaggi di esami 2030 innanzitutto io posso fare il preside in tutte le puntate non c'è più nulla che possa interpretare no di certo non posso più fare lo studente farei tutti quanti i personaggi cresciuti e allora tu avresti Max di economia che ha aperto la sua start up avresti il Pips che è diventato donna l'assistente una donna assistente di Tahir è diventato quello che tira i fuochi a Tahir eh sì 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 te l'ho chiesto a casa te l'ho chiesto anche perché fu in modo autonomo un grande successo del web e oggi vengono riproposti i grandi successi tipo Camera Caffè certo c'è il remake di Camera Caffè adesso è vero è il terzo reboot di Camera Caffè perché no secondo perché c'è stata le prime stagioni l'hanno rifatto sulla Rai e ora su Prime e ora è vero e ora è su Prime quanti caffè dobbiamo berci caro mondo prima di fare prima di fare un altro tanto magari torna anche l'idea della Camera Fissa però quella di Camera Caffè è un caso particolare da quello che so perché non era disponibile da nessuna parte è su Comedy Central è stato per Comedy Central per millenni ah sì? tutta internet su Twitter era scrivere che non si trovava bastava chiamare Luca Ravenna bastava chiedere a Luca Ravenna che è il nuovo TV sorrisi e canzoni visto che è facile criticare le idee degli altri vi chiedo ti chiedo dove metteresti una Camera Fissa oggi per una sketch serie per una roba del genere dove ti farebbe ridere trovarla dove vi farebbe ridere Camera Fissa tipo Camera Caffè ah ok è un'idea nuova perché sennò è facile dire negli spogliatoi della Virgin bello bello e come si chiama Svergin? perché sono iscritta perché sono iscritta alla Virgin e si chiama Sverginati la serie Extra Virgin Extra Virgin molto bello molto bello anche questo ma sei iscritta alla Virgin adesso? sì sono iscritta sono un membro lo dico senza vergogna quando è che ti rifarai le labbra gli zigomi le tette è tutto in programma è nel pacchetto ma in forma ci si adatta a questa destra abbiamo detto no no ma infatti è perfettamente coerente il tuo senti qual è la cosa più disgustosa che hai sentito in uno spogliatoio della Virgin conversazione fra donne o insomma che si può dire no in realtà è tutto molto pulito quindi ancora non ho niente di schifoso scritta da due settimane sì ha aperto adesso è ancora l'innocenza al tempo richiediamoglielo a Natale hai ancora l'innocenza parliamo tra un po' questo è un bel post tu dove la metteresti nella telecamera per una serie camera fissa allora in un bel co-working al pigneto ti metto però oggi nel 2022 oggi nel 2022 esatto quel sogno berlinese del co-working al pigneto eh si guarda però ti dirò secondo me è una bella idea la metterai lì su un taxi tipo fake taxi fake taxi no fake taxi però tutti i matti che Marco Berri aveva avuto questa idea esattamente questa 10-12 anni fa c'era un programma di Marco Berri in cui faceva il tassista e caricava gente sul taxi quando Marco Berri quando c'era sette programmi in tv c'era invisibili invisibili questo invincibili ma è un problema mio io ho sempre sovrapposto Marco Berri ed Enrico Ruggeri per qualche ragione ma perché guarda in me io non so chi sia la voce la pelata la pelata esatto media sette e anche forse anelli al pollice di metallo braccialetti di pelle anche una certa infilazione verso appunto un remake di cento anni fa più o meno ah dici? ah sì? no Berri no Berri è un cuore puro no chiruggieri è caspita è caspita è caspita è caspita con tescia diciamo un po' cambiato il mondo eh sì Carmelo dove metteresti una camera fissa per una nuova serie? cioè buttiamo un po' di creatività sennò qua sembra che poste italiane a poste italiane e palle sai quelli tigli che ci sono? no i vecchi che impazziscono guarda che mazza a gaso questa è una bella serie lo speed ce l'ho ce l'ho lo speed veterinario ah mamma mia vedi proprio le persone io non so quante persone in più hanno preso cani in Italia dopo il lockdown compresi noi per quello vorrei proprio vedere come friccicano le persone no più che veterinario area cani area cani area cani su tiktok area cani area cani ci sono le tolettature ci sono le tolettature in diretta con camera fissa su tiktok davanti alle quali tu ricordiamo sempre riprendi quel marsupio matto e shakery no ma lo stesso è un genere c'è carmelo che va a farsi fare la toletta e gli rasano anche a lui il monte di hermes vorrei diventare un barboncino grazie no perché prende una piega triste sono il veterinario all'estero ho visto dei formati simili sono sempre drammatici purtroppo senti ci sono anche adesso mi fai ridere perché fanno già i remake di programmi di soli due anni fa però per giovani controbilanciati all'algoritmo sto parlando di lol su tiktok eh quella è una nuova versione è incredibile beh lì però per ampliare ovviamente il profilo di prime no quella è la fine del mondo per me vedere un format chiamiamolo televisivo in nove sedicesimi verticale io ho voglia di uccidermi da videomaker non ho fatto solo perché i telefoni sono verticali dobbiamo fare tutto verticale senza capire che il mondo non è verticale il rischio un po' è che come è maturato Tahir si sente che ha votato azione nelle ultime elezioni io le odio ma mi sta capitando nel lavoro da un paio d'anni sta shiftando il rischio è che nel momento in cui è un format noi stiamo parlando di tutti i format di successo di camera caffè top gun film format quando lo diluisci devi diluirlo con molta attenzione perché se lo porti troppo da un'altra parte il rischio è che si appunto crei un effetto diluito non parlo di lol amici mi siete dimenticati di me mi siete dimenticati di me per lol natale io non ci sono vabbè ma lol era il remake del gioco del silenzio all'asilo alla fine ah tu dici si è vero c'è l'autore giapponese domani Carmela viene sgozzato come una capra immediatamente si si no scherzo non come una capra le capre non si sgozzano si aspetta che si muoiono di morte naturale anche perché possiamo dirlo mi so scordare dirlo nessun animale è stato maltrattato anzi salutiamola salutiamo la capra salutiamo la capra della sigla come si chiama Amanda 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 la capra e il suo agente che si chiamava Edoardo si esatto stupendo grande grande Edo non dovrebbe fare niente la capra appena arriva ha lasciato immediatamente sei pratagiole nello studio ma ci vuole capire capisca avrei fatto uguale se ne fossi stata una capra anch'io perché mi schiava il posto esatto senti ma qual è invece qual è un format che vedresti di Rai o Mediaset su TikTok per avvicinare i giovani ne abbiamo parlato ogni tot la Rai prova a rilanciarsi con un occhio ai giovani non sai chi sia l'autore l'autrice che ha avuto questa idea ma sai che non può avere meno di 65 anni esatto quindi questa idea che proponiamo per Rai 5 tecnologia spiegata al pubblico si chiama pronto Clebaus ed è la Rai che finalmente finalmente spiega ai giovani al proprio pubblico al proprio pubblico i social network è un po' come se fosse un non è mai troppo tardi del maestro Manzi però noi abbiamo provato di scriverlo non è mai troppo tardi con la chiocciola il titolo è pronto Clebaus sottotitolo detto anche dallo speaker non è mai troppo tardi e se Tair poi me lo agevoli al montaggio questa cosa in onda seconda serata seconda serata seconda serata su Rai 5 esatto Rai 5 è presentato da questi personaggi che la Rai tira fuori dalla terrazza di scuola quello che finisce schiacciato è preso quest'autore di 70 anni Giovanni la mia occasione eccomi qua eccomi qua sono tornato lo lasciano vestito da anziano o lo fanno un po' young secondo me guarda quando la Rai vuole darti un po' quel look young cioè gli mettono gilettato gilettato a 70 anni meglio esatto gilettato però gilet di raso Bordeaux cravatta e cravatta però con le note musicali capito che è una cosa un po' da giovane un po' da giovane entra la mano di cui si vede chiaramente la fede c'è tutti i dettagli la mano le nocche pelose i peli bianchi rovinate un po' dal tabacco entra dentro prende il cellulare primo piano con lui che fa e dice guarda in macchina pronto clubhouse e ogni puntata durata 50 minuti parla dei social network dei social network prima puntata si parte dagli albori l'autore lo fa scrivere dagli albori o lo fa scrivere dal principe la prima puntata è il direttore allora dobbiamo fare una bella figura la prima puntata dobbiamo spaccare dobbiamo fare la social network forte la prima puntata e si inizia è il 2005 siamo a 2004 è nato mica lo fa parte da New York ma va si vede l'argomento è introdotto da un poke quante volte vi è capitato di voler dare una piccola pizzicata del vostro amico virtuale senti sta proposta bomba per il programma tu fai l'anziano io faccio il tipo dei reenactment la persona che fa le cose la persona che è nel linee delle cose esatto riguarda il coso vi sarà capitato di avere un amico non vederlo dai tempi del liceo e ritrovarlo proprio lì su facebook guarda che fine affalto l'alberto mastagnaghi frequentavamo insieme il liceo cavur di trezzano sull'adda e oggi lo ritrovo proprio qui ma come faccio a parlarci se fossimo nel mondo reale andrei lì gli darei una pacca sulla spalla uè alberto siamo noi classe 57 e oggi invece basta un piccolo strumento digitale una magia data dall'algoritmo e da un'ingegneria elettronica sofisticatissima proprio lui il POC gli manda quella forma di caffè però passa il tempo e l'amico non risponde abbiamo altre armi a nostra disposizione tipo il giocare a Farmville Farmville chi di noi non ha mai sognato essere un fattore un contadino una persona che abita nella campagna chi di noi lavorando che ne so magari per un istituto statale aveva tante ore a disposizione e ha deciso di costruire l'impero delle carotine delle rape gialle con la vita che facciamo in città la vita è così frenetica andare ad abitare in campagna è un lusso per tanti non se giochi sulla campagna virtuale Farmville eccolo lì poi può capitare anche che quando vedi le foto del vecchio compagno dici ma quella lì ma guarda lì c'è la Laura Francescotti guarda che meloni che ci sono cresciuti e li diventa una scherzi diventa un altro dove lavoro oggi a relazioni col cliente Palmolive hai capito è cresciuta la Laura bellissimo in quali foto è taggata opera la opera la due figli bel feed esatto due figli ciumbia e tutte queste cose qua ogni puntata c'è una cosa diversa quindi poi c'è la puntata su twitter certo siccome è registrata un mese fa e non maschera non se ne parla proprio sentite questo cinguettio aspettate un momento ma io abito al centro non ho mai sentito tutti questi volatili questi pennuti proprio fuori dalla mia finestra un momento ma è lo schermo del mio computer cosa ve ho lo schermo del mio cellulare un momento che è un blackberry fa vedere qua posso essere femminista anche se vi faccio vedere il culo benvenuti questo è twitter bellissimo è il 2001 2008 non so jack dorsey jack dorsey crea questa roba qua il twitter è facebook più piccolo più breve è così e poi si va avanti con gli altri poi c'è la puntata quelli che se ne sono andati 680 caratteri vi sembrano pochi avrebbe detto mogol beh jack dorsey lo avrebbe detto prima di lui e la puntata i social dimenticati il flicker il msn l'msn l'omino verde e poi le nuove piattaforme il twitch esatto queste cose qua è una serie tra l'altro noi stiamo scherzando il be real il be real l'avanti e l'andrè facciamo la fosta stiamo scherzando su un programma che esiste quello di diaco bellissimo programma di diaco bella ma bella ma noi adesso stiamo scherzando tra l'altro questa roma è nata nei corridoi della rai di torino luogo se vi capita amici torinesi andate a visitarlo perché sembra di entrare a berlino est negli anni 60 comunque si sente che è la città della magia nera veramente quando entri in quella rai lì stavamo chiacchierando e mi hanno detto ti immagini se la rai facesse pronto il clubhouse e poi tu mi hai detto guarda che esiste si chiama bella ma bella ma scusate tra l'altro Alessia Marcucci dovrebbe fare tipo boomerissima ma se ne parla molto di questo boomerissima l'hanno rimandato l'hanno rimandato va verissima solo con i vecchi cascano tutti i vecchi doveva cominciare in autunno e l'hanno rimandato spero diciamo che in genere quando la tv vuole fare internet non è che proprio funziona mentre quando internet prende la tv funziona non solo funziona è la realtà è quello che succede si è persa la verticalità del controllo vabbè ma non facciamo Uy Umberto Eco allora 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 quali sono adesso chiedo quali sono i remake che se dovessero farli ti farebbero girare i coglioni tipo i blink che tornano insieme no ma guarda quello sono contento sono contento per loro Whatsapp chiedo sto per dargli i miei soldi ma certo ovviamente e non glielo ho neanche dati non siamo riusciti a prendere i biglietti 21 secondi ho fatto di tutto anche sì sì abbiamo non c'è stato verso non c'è stato verso però dai secondo me troveremo qualcosa magari in Europa magari in Europa no ma no 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 voglio andarli a vederle nella data sfigata capito link live in Bruges un concerto tristissimo ma no vabbè questo scherzaparte il remake ti farebbe impazzire di rabbia Independence Day se rifacessero Independence Day il remake eh no mi incazzerei ma non l'hanno fatto no 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 l'hanno fatto il 2 non l'hanno però anche vedi anche qua Independence Day sa che l'hanno fatto Independence Day eh forse sì tipo cioè a ritornano ma l'avevano sconfitti e poi ritornano oh non mi vorrei oh mo cerco che vedevo di no a me non mi risulta ma altri film unici proprio tipo penso dovessero fare il remake di Pulp Fiction pagando a Tarantino i soldi per i diritti per il nome e tutto però lo dirige un suo erede girato con gli attori di oggi dovessero farlo no 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 Independence Day rigenerazione del 2016 beh è andato benissimo no? se ne è parlato molto quattro piovri quattrocento milioni the box office quattro piovri eh uuuu cioè non è andato benissimo agli amici che abitano nel Carso noi si rivolgiamo al nostro pubblico più internazionale quattro gamberi di galliboli non c'è una piovra a Roma scordi cento milioni di euro quattro seppi e senza arnero con spaghetti non c'è se usiamo anche a Bordenone avranno capito quello che voleva dire ci scusiamo col pubblico del nord si sono permessi di rifare Bud Spencer e Terence Hill bravo hanno rifatto altrimenti è andata una bomba meno male che l'è stato infatti boicottato è molto rischioso sono incazzati in tanti i fan veri e certo si incazzano si sono incazzati da morire qual è un remake che ti incazzeresti proprio Forrest Gump un film che non si può rifare quando ci siamo detti questa cosa abbiamo scritto la sceneggiatura in due secondi immediatamente riscritto come sarebbe oggi col figlio di Forrest che cresce e che incredibilmente passa attraverso dagli anni 90 ad oggi il secolo completamente compresso in un ventennio si fa tutto e si fa tutto si fa l'11 settembre nascita dei social la governo Bush la crisi del 2008 la guerra in Iraq tutto 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 Matteo Renzi che lascia il PD Capitol Hill Capitol Hill però lui il figlio di Forrest comunque sta bene non ha senso il film perché Forrest è leggermente al di sotto della media tipo Carmelo non è non è al di sotto funziona perché è così certo certo e si è vero scusa invece dicevamo per esempio chi è che potrebbe rifare oggi in Italia Totò cioè se dovessero fare il remake dei film di Totò chi potrebbe interpretarlo ovviamente uno dice sempre Favino tutto quanto che è il più bravo ma usciamo usciamo dal meme io dico Vincenzo Saleme col trucco speciale lo fa da Dio farebbe un film drammatico struggente sul principe dei Curtis Totò Begins Totò Begins quando quando va ad allenarsi con le musiche di Zimmer in Afghanistan in un pozzo ad allenarsi a fare a livello io stavo in decina è bello e dal Vesuvio sparano il coso in cielo la cosa che c'è bisogno di Totò per portare un po' di allegria e lui capisce che è il momento di tornare il T segnale il De Curtis segnale e il Joker lo fa Siani e il Joker lo fa Siani giustissimo è vero e il Pinguino chi lo fa? Bucci Rosso Bucci Rosso Carlo Bucci Rosso fa il Pinguino i cattivi ci sono tutti Catuomo la Fatosca d'Aquino beh è bello è giusto e Fantozzi una maschera che non si può toccare è difficilissimo ragazzi il remake di Fantozzi eh sì molto difficile è molto eh vabbè però no no però invece secondo me Fantozzi rimane rimane la satira dai cambiate gli uffici però rimane quella cosa lì la figura della figlia oggi potrebbe essere affrontata nello stesso modo molto difficile anche quello beh no sarebbe tutto quanto un tema sul body shaming eccetera oggi la figlia ma sì lo so che lo tagliamo però ci teniamo a dire si pippa non si taglia si pippa no no si può no invece a proposito di remake di programmi televisivi perché se ne fanno in tanti ci sono dei programmi che ci siamo resi conto non si potrebbe rifare il remake oggi ad esempio Beato fra le donne un bel remake di Beato fra le donne con un grande Paolo Bonolis un grande forse non so se c'era Luca Laurenti questo programma chi è Beato fra le donne è questo personaggio che sopravvive a una serie di prove geniali inventate dall'autore fatte solo per far bagnare i costumi delle ragazze comunque hanno fatto quello di Ciao Darwin quello è Ciao Darwin 46 cioè continua all'infinito è sempre quello no l'hanno fermato tipo per dieci anni vabbè però insomma è una cosa che prosegue le ragazze come venivano chiamate le? le spintarelle cioè io mi chiedo la cattiveria di quale dirigente televisivo avrà chiamato queste donne le spintarelle con un'allusione forse fin troppo poco velata ma quale invece genialità nel chiamarle così quale onestà è vero le spintarelle ma giusto così una lettura poi vastissima puoi dare di questo termine meraviglioso ma poi perché Beato fra le donne cioè si vorrebbe anche aggiungere un tema molto serio cioè dovresti fare la puntata Beato fra gli uomini Beato fra le donne Beato fra le donne che si sentono esatto sarebbe impegnativo quando lo vede con falonieri ma chi cazzo l'ha prodotta questa roba qua teste di cazzo andate rimettetemi la Dignitas delle Iene dai veloci forse Luca ha questa sua nuova idea di far sponsorizzare la Dignitas di Zurigo dalle Iene direttamente a sto punto ragazzi cioè avete un record veramente fortissimo a sto punto andate e date una mano per cause ben ben più importanti di quelle che tende a seguire il programma normalmente e invece scusami un remake di non è la Rai quest'oggi loro devono essere ma ghinca è forte prodotto da Vice giusto non è Rai Play però non è Rai Play stupendo non è Rai Play bellissimo che poi già la fa Vice non è la Rai perché quando fanno quelle interviste tipo parliamo di femminismo con tipo non è Rai Play con tutti i Tik Toker le Tik Toker lei certo non è Rai Play con le Tik Toker ma infatti già Tik Toker stupendo la conduttrice non può che cioè l'unica persona che può farlo è Giorgia Soleri Giorgia Soleri lei conduce la nuova Ambra quindi tutto fatto al contrario tutto quanto cambiato però comunque provoco chi è il buon compagni che le sussurra nell'auricolare ci vuole in questa non è la Rai su Tik Tok e quindi tu dici a Giorgia Soleri a regà a regà porco d***o mi sono rotta il cazzo tu dici tu dici programma stranissimo su TikTok su Rai Play no su TikTok della Rai li fanno entrare tutti col gommone non toccate i ragazzi non li dovete toccare non toccate i ragazzi bello proponiamo la Tik Tok proponiamo la Tik Tok remake hanno fatto anche il remake di Twitter recentemente l'ha fatto Elon Musk e sta andando straordinariamente bene più forte ma prendete con cioè per un capriccio cioè ma in che economia viviamo in un attimo momento cioè in quale mondo viviamo in cui l'uomo più ricco del mondo può comprare un social network per farsi i tweet far schizzare il valore della propria azienda in borsa indisturbato cioè nessuno ha avuto nulla da dire su questa cosa ma chi c'è sopra ma cazzo ma l'antitrust americana cioè nessuno ha detto nulla cioè lui già lo fa normalmente cioè già quando non era suo lui faceva un tweet e Tesla cioè ora si è comprato ma come può essere ma c'è un calcolo che fa spavento che tipo se tu dovessi lavorare per 5.000 anni guadagnando 6.000 euro al mese dopo 5.000 anni avresti lo 0.6% tutto di quello che ha Elon Musk ma io questo dico ma è possibile che non ci sia nessuno che interviene in questo mondo malato in cui tutti hanno pochissimo e pochissimi annulli ma così sì però ragazzi assurdo ma quanti diciamo che secondo i tuoi calcoli quante piovere c'ha Elon Musk no no c'è una pescheria c'è orca assassina c'è tutta la costa triatica con pinnaccio tutti i cicladi a proposito comunque c'è tacee di grandi dimensioni il remake della piovere fatto da Tahir con Tahir con Tahir il piacido è quello dell'home banking con cui si chattano col bot chissà se un giorno non rifaranno il remake di Kashmir eh ma guarda ti posso dire che vedo un po' delle scopiazzature qua e là va beh ha lanciato una provocazione anche noi copiamo altri show quindi ci sta no vabbè far show che non fanno ridere e poi far ridere su Kashmir è migliorare non è copiare bravo bravo chi vorresti dovessero fare che non so ce lo compra Cecilia ha prima detto Rayplay Rayplay ce lo compra perfetto ci toglie di mezzo ci riempie di piovere noi abbiamo queste valise classic Rayplay classico di Rayplay avevate chiesto il pesce noi siamo lì con la carta con queste piovere che gocciolano ma no direttore noi non volevamo del pesce ce ne andiamo fra 20 anni torna fra 10 anni torna chi vorresti come i nostri Rayplay fra soli 10 anni il tempo ormai si sta comprimendo 5 5 fra 5 anni perché il tempo si comprime sempre di più quindi chi vorresti al nostro posto al nostro posto minchia due tiktoker giovanissimi che però simpatici bello facciamo questa cosa la ridico secondo me la ridico tu che vorresti come nostro successore fra 5 anni alla conduzione di cashmere podcast non lo so ma vorrei sicuramente che fossero due donne al quinto taglio questa cosa lo avevamo detto potrebbe anche essere all'interno dei nostri organi genitali ah 5 anni Carmelo non lo so allora voi non l'avete sentito solo io e Edo mi sarebbero sentito quando ha detto ha finito di dire organi genitali ha fatto pensa pensa alle persone che stavano ascoltando questo primo episodio che hanno che sentono pensiamo verso la conclusione però ragazzi avete preso meno in giro da Irk e me non puoi iniziare così la terza stagione guarda che io l'ho detto io qua lo dico e qua lo nego se tu fai lo spiritoso l'ultima puntata della terza stagione facciamo incontro di box io e te e tu alla quarta sarai sotto terra questa è una cosa stupenda allora non mi hai mai visto mettiamo un mione sul piatto ti prego lo facciamo di voi street fighter mettiamo un mione sul piatto facciamo di voi una piovera una piovera ah a Carmè famo un polipetto con le patate alla luciana la piovera 100 milioni le donne poi si arrabbiano per il catcalling noi abbiamo invece quelli che ci chiamano al ristorante che quelli mi fanno arrabbiare parecchio non hai mai visto come reagisco ma è una canzone di venditti questa le donne si arrabbiano per il catcalling noi ci abbiamo quello che ci chiamano ma chi è che ci chiama al ristorante non ho capito chiudiamo la puntata su questa similitudine di Carmelo fra catcalling e quelli che ci chiamano al ristorante chi? noi camerieri per chiedarci se portiamo l'acqua ah tu dici che quella è una forma di catcalling mi porti una nepi voglio camminare libero per strada ma quando è che cammini di fianco a un ma lui sta alla puntata 12 è un'altra puntata sta sempre avanti Carmelo bene io ringrazierei il nostro pregiato pubblico grazie di essere tornati come siamo tornati grazie ragazzi sempre per l'affetto che ci dimostrate siamo felici di essere tornati e noi ci rivediamo la prossima settimana con una nuova puntata di cashmere podcast e un grande ospite ma non diamo troppi spoiler per ora ringraziamo uno o zero ospiti uno o zero ospiti uno o zero ospiti questo lo vedrete la prossima puntata grazie Tahir grazie Carmelo grazie Alice grazie Cecilia grazie Edo grazie Luca grazie non vi saluto e ci risentiamo la prossima settimana ciao un applauso per questa prima puntata bravi a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti